Pavone si torna a parlare di urbanistica in modo importante a Rosario degli Abruzzi, in particolar modo del nuovo piano regolatore. Voi avete deciso, di come un accordo con tutta l'amministrazione comunale, di fare degli incontri con tutta la cittadinanza e ovviamente si parlerà soprattutto di manifestazione di interesse per arrivare alla fine a un punto di incontro finale per questo piano regolatore. Sì, come ho sempre detto e come anche l'amministrazione ovviamente ha condiviso, io ho accettato questo incarico di Presidente della Commissione Urbanistica per cercare di arrivare veramente ad approvare il piano regolatore generale della città che è fermo, adottare, approvare, che è fermo al 1990. A mia idea, dall'esperienza che ho, questo è possibile solo se c'è un confronto aperto serio con tutte le componenti della città, dalla parte politica anche avverse, alle attività imprenditoriali, a quelli che ho definito liberi pensatori. Cioè ognuno, noi faremo anche un tavolo di persone, ex sindaci, tecnici, di persone che vogliono venire liberamente ad esprimere una propria opinione, un proprio pensiero su quello che stiamo facendo. E poi ci sarà il giro nelle frazioni, verranno coinvolti ovviamente i consigli di quartiere che abbiamo attivato e in questi giri verranno illustrate le linee di indirizzo generale che sono state approvate e poi verranno raccolte anche delle idee da parte dei cittadini per avere un sentore di ciò che la città magari si aspetta e che magari noi non riusciamo all'interno del palazzo a intercettare perché magari il confronto non è proprio così diretto con la città come potrebbe sembrare o può essere perché ovviamente chi sta a governare dentro la città rischia di perdere il contatto con una parte della città che non è raggiunta sempre.